Nel cuore pulsante del Grande Fratello 2023, un evento inaspettato ha catalizzato l'attenzione del pubblico, svelando le profondità emotive di Mirko Brunetti. La scena si svolge in un contesto carico di tensione, dove le dinamiche interpersonali si intrecciano con le strategie di gioco, creando un mix esplosivo di sentimenti e reazioni. Mirko, noto per il suo carattere forte e deciso, si è ritrovato in una situazione che ha messo alla prova la sua resilienza emotiva. Dopo una serie di eventi che hanno visto lui e Perla vatiero protagonisti di una relazione turbolenta ma intensa, un nuovo capitolo si è aperto inaspettatamente durante uno stacco pubblicitario. Perla, visibilmente turbata, ha lasciato trasparire le sue emozioni, versando lacrime che hanno colpito direttamente il cuore di Mirko. La reazione di Brunetti è stata immediata e viscerale, un misto di rabbia, frustrazione e senso di protezione nei confronti di Perla. Liberandosi del microfono in un gesto di disperazione, Mirko ha espresso il suo disagio e la sua opposizione nei confronti degli autori del programma, percependo la situazione come un'ingiustizia nei confronti di Perla e, indirettamente, nei suoi riguardi. Questo momento di tensione ha svelato non solo la complessità dei sentimenti di Mirko ma anche le sfide che i concorrenti devono affrontare all'interno della casa del grande fratello, dove ogni emozione è amplificata e ogni azione può avere ripercussioni inaspettate. La domanda che emerge da questo episodio è dunque, fino a che punto si può spingere un concorrente prima che le pressioni del gioco e le strategie di intrattenimento sfocino in un conflitto reale e tangibile? E quale sarà l'impatto di questo fuorionda sulla relazione tra Mirko e Perla, e sulla percezione che il pubblico ha di loro? La tua opinione è preziosa in questa discussione, pensi che Mirko abbia reagito in modo eccessivo o credi che la sua sia stata una risposta umana e comprensibile di fronte alla sofferenza di una persona cara? Condividi i tuoi pensieri nei commenti, lascia un like se apprezzi l'autenticità in situazioni estreme come queste, e non dimenticare di iscriverti al canale per restare aggiornato su tutti gli sviluppi di questa e altre storie avvincenti del grande fratello 2023. Ogni momento è un'emozione, ogni storia merita di essere raccontata, partecipa, reagisci, iscriviti. Non perdiamoci di vista, alla prossima avventura del grande fratello.